ragazzi abbiamo fatto un incidente con la macchina, Ilari tutto bene, ho bisogno del vostro aiuto un ragazzo per fortuna ho aiutato e gli accorso di loro la macchina, perché questi sono scappati la macchina non è renegade gialla, la targa è adesso lo scrivo qua, aiutatemi a trovare questa qua che sono scappati, ok?